Spiderman! Nanananananana Ma questi secondo me Nanananananana Perché fucsia? Vediamo come viene dai Vediamo zebrato Wow bello 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 Guarda qua quanti like mi danno adesso Ma perchè prima non mi hanno dato i like Cos'è? E' brillantini Ciao a tutti ragazzi Siamo Rabbe e Molly E benvenuti In un nuovo fantastico video Ma qui non c'è uno specchio E io dovrei ridarmi bene il mio rossettino Vabbè dai Lo faccio io dopo A livello 10 Te lo metto io a livello 10 perchè oggi dobbiamo Come no? Io metterò il rossetto a te a livello 10 No 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 Allora comunque sia in questo gioco Dobbiamo fare un po' di make up Un pochettino restauro di labbra Restauro di labbra? Restauro perchè guarda questo cos'è? Eh vabbè ma gli è andato via un po' il rossetto Bisogna fare un restauro Qui bisogna rifare tutto perchè noi siamo dei professionisti o no? Sì siamo dei professionisti Oggi saremo dei super make up artist ragazzi E poi io sono stanco perchè la Rebbe mi sta facendo registrare di mattina Ma non è vero allora Guardate che occhiaie che ho Eh vabbè non si sveglia mai ragazzi Cioè diteglielo che la mattina ha loro in bocca Chi dorme non piglia pesci Effettivamente Allora Guardate come è dormita Ma le sveglia Sveglia Allora va bene se lo sveglio A molli ci vorrebbe quella sveglia che si mette qua la mattina e fa tan 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 Basta Allora quindi per favore lasciate un mi piace Allora quindi restauriamo vediamo un pochettino Ma perchè anche scusa eh anche questi questi giochi qua che dove io sono l'esperta devi iniziare tu No io Ah ma bisogna rimuovere il vecchio No ho capito che cosa si era fatta il tatuaggio alle labbra No vabbè Tutto colorato Ma sei incrossato Stai attento Stai attento Quello è laser Devi stare attento con laser Sì vabbè Eh ragazzi io non vorrei mai molli come estetista eh Dai che sto andando benissimo Oh glielo lascia solo sotto No non lo sceglielo poverina Lo devi togliere tutto Pessimo restai Attenzione No sta andando benissimo Guarda Yes No non hai finito di togliere Ma si quelli sono i rimasugli dai Ma dopo quello nuovo Nooo 100 like Ha fatto 100 like con queste nuove labbra Eh dai bravo molli bravo Dai fammene fare un'altra Dai no tocca a me La chiave c'è lì eh Quale è la chiave eh Uh il rossetto Un cliente a testa Va bene però la chiave La chiave La chiave Come stai mettendo il rossetto No piano piano Aspetta lo metto bene Oh mio dio Oh mamma ragazzi Dai Dai bravo Aspetta Quasi Fai bene i bordi però Che sennò sembra sbaffato Ecco qua E li passa bene lì sopra Anche dall'altra parte un pochettino Oh Ecco è perfetto Bravo Un applauso per molli make up artist eh Questa volta Bravo Oh 200 200 Mamma mia troppo bravo eh Trocca a me Ok vediamo se la rabbi sarà brava come me Oh guarda possiamo usare un'altra cornice eh Oh bella eh Ok vai usciamo Continuiamo E No che cosa è questo Un nuovo Un nuovo tubo Un nuovo tubo Prendiamo Prendiamo la chiave Allora bisogna un'altra cosa Oh ma mi piace questo vase Eh devi stare attenta Guarda allora togliamo tutti i pezzettini Poi sicuramente nei prossimi livelli ci saranno cose più difficili da fare Sembra un mosaico E comunque abbiamo sbloccato un nuovo rossetto Un nuovo rossetto Un nuovo attrezzo No un nuovo rossetto Guarda questo è blu È blu è vero Prima era viola Attenzione Vai ci sei quasi Mamma mia pure i dettagli Sono preciso Scusa il rossetto Non lo so te lo vuoi dare Allora Oh guarda ha fatto tutto perfetto Facciamo questa cosa Se questo video arriva a duemila mi piace nel prossimo ti metterò il rossetto No 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 Eh no 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 Sì 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 Io non metto niente Eh lo metto io infatti Nooo Vai Oh Mi fa perdere il passetto Che c'è siamo halloween qua Bello però nero così Bello il rossetto nero Sì ma l'hai messo guardate Aspetta non ho finito Bisogna fare Per metterlo bene capito Bello Perfetto Guarda qua quanti like mi danno Bellissimo Perché prima non mi hanno dato i like Cos'è Wow Vabbè È brillante Bellissimo È galattico Galattico Vai Vediamo un po' Qui voglio 500 like Vediamo 300 300 Non male Non male Allora Not now Vediamo un po' A livello numero Cos'è Free laser gun No Cos'è sta roba Allora Qua ragazzi Comunque Aspetta È il livello bonus È bonus level Comunque qua volevo dire che c'è anche un fantastico negozio Noi adesso non abbiamo i soldi Però possiamo comprare il laser gun Il free Oh abbiamo anche la nostra galleria di foto Guarda Con tutte le foto che ci hanno fatto Bellissimo ci piace Allora iniziamo il livello bonus Sì vabbè dai Il livello buono Comunque i diamanti sulle labbra li vorrei anch'io eh Eh sono belli Cioè non ci può essere un make up con i diamantini sulle labbra sarebbe molto carino Scusa ma i diamanti e gli esmeraldi dove sono? 2,60 Ma non ce li hanno dati? Eccoli Ah eccoli sono qua Rossetto verde Rossetto al vomito Rossetto verde Ma che devi dire queste cose in diretta? No no vabbè Allora Scusa ma hai fatto già tre volte? No basta tocca a me dopo Allora mi rende poi così addormentato Tocca a me dopo No non è vero ho fatto solo una volta ma te dormi ancora Dai dai dammi dammi Cosa dammi adesso fammi finire la mia creazione Basta basta puoi andare già di là No no io faccio le cose per bene Facciamo così Tocca a me Tutto il rossetto No questo lo voglio Tutto il rossetto Cosa cambia? Sono tutti uguali i rossetti Cosa hai detto? No no Ti ha detto? È bello Ti ha detto ragazzi che i rossetti sono tutti uguali No è bello I rossetti non sono tutti uguali Dipende dall'outfit Dipende da quello che ti metti Dipende dalle accessori Sì va bene dai Dipende dalla tua carnagione Dipende dal colore del sole Dipende dalla giornata Dipende da Ma what? What? Wow No i cuoricini Ma te l'hai mai fatto una cosa così? No Purtroppo no Però la volta Come purtroppo? Eh no Non l'ho mai fatta Guarda Vabbè inquietante Adesso Sì Cos'è? La test mia No uno mio Uno Sì Non l'abbiamo trovato Non l'abbiamo trovato Vabbè lo troveremo la prossima volta Vediamo un po' Allora siamo a metà e poi sbloccheremo una cosa carina eh Allora hai visto che potevamo comprare qualcosa nel negozio perché abbiamo 630 diamanti Allora io adesso faccio super veloce No 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 Così Piano 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 Guarda guarda Ok queste cose le lasciamo Ma no Vedi sono scomparse Nero Poi direi così va benissimo Ehm no Direi di no eh Direi di no Vediamo un po' Ma è nerissimo questo Questo rossetto È ancora più nero di quello di prima Però perfetto Ok top La signorina poi ha delle belle labbra eh Oh Guarda Ma era bello bianco e nero E perchè fucsia Vediamo e vediamo come viene dai Vediamo zebrato Vediamo Bello Wow Bello bello Lucido Wow Lucidiamo 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 Perfetto Guarda che bello eh 500 like Bellissimo questo Stupendo Vediamo 500 Bravo Molly Bravo Bravissimo Allora Aspetta 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 Vai sulla cornice Cornice eh Vai Aspetta Foto foto Fai la foto No foto foto Ah posso inclinare Vai Facciamo così No dall'altra parte è la più bello E dall'altra parte Così? Ecco così Vai Vai foto Save Perfetto Ok andiamo avanti Guarda guarda che c'avevi Nooo Stai tranquillo Wow Labbra nelle labbra Fantastico Labbra nelle labbra È una metalabbra Eh eh Capito Oh i baffi Wow Ma non sono baffi Oh Nooo Ah no sotto dovevo fare Devi colorare solo sotto eh Attenzione Ok Ma perché ti ha fatto colorare questa cosa così? Così? Ma che cosa? What? Ma che labbra vuole? Che labbra sono? Sì vabbè ma se poi va a mangiare Vediamo Disastro Ma cosa? Verde No vabbè È una fragola Questa cosa si sta sfuggendo di mano È una fragola hai visto? È un ananas Come un ananas? Non vedi che Vedi che è un ananas? È un ananas È un ananas Ragazzi Vediamo un po' Benene 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 Ma che labbra si fanno? No e adesso? No è una fragola È una fragola Adesso diventa una fragola È un ananas È un ananas È un ananas Guardate Nooo Ma che è? Ma bellissimo Bello mi è piaciuto Sì ma nella vita reale per fare una cosa del genere quanto ti chiedono Troppo No ma ci metti troppo tempo più che altre già per le labbra che poi mangi e va via tutto E poi ti fai E va via tutto Nooo Bravo hai preso 600 like Bravissimo Adesso tocca la rebecchina Comunque È un carota Un laser carota È una caralaser Caralaser Vabbè Comunque possiamo sbloccare un lipstick che è molto carico E cos'è il lipstick? È il lucidalabbra Oppure? Oppure un laser Oppure una cornice No cornice no Allora io farei un lipstick Vediamo Vediamo Giallo Giallo va bene E vediamo se abbiamo anche per una cornice No Non ce l'abbiamo Va bene Ok allora Vai con il laser Guarda abbiamo un nuovo laser Ma cosa cambia? Non è cambiato niente È diverso sopra Vedi la forma? Vabbè Eh vabbè Comunque era bello questo rossetto giallo Mi piaceva Molto carino Rebis Pineapple pen Ayava pen Ayava pen Perché mi è venuto in mente Ah beh perché pineapple e ananas E prima tu hai fatto le labbra d'ana Muoviti E non riesce a tagliare quel pezzettino Ma quel pezzettino rimane saldato via Nooo Ma va bene va bene Dai c'era un pezzettino Si comunque mi hai sputato dappertutto C'è Molly Molly qui parlando di labbra Sputacchia Dai Ma anche te hai sputato su tutto il cellulare Che schifo Ma non è vero adesso Non è che diciamo Perché lo dico io È schifo Guarda 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 Bello che è schifo Hai visto? Nooo il pennarello Ah è quello nuovo Che è l'uovo lipstick L'uovo lipstick 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 bulb Vai livello 8 vogliamo Wow che è Bello Mi piace questo Sembra una cerniera Belle mi piace Queste labbra bellissime secondo me Guarda che belle Ma queste labbra diventano sempre più particolari Eh sono particolari Ormai siamo troppo pro ragazzi Guarda sono come la cerniera dei pantaloni Hai visto? Belle No di un top più che pantaloni Non si capisce Vediamo un po' Carino Stupendo Bellissimo Vai tocca a me Ma cosa? Due volte devo fare 700 700 like Ci piace ci piace Rebi mi hai preso il cellulare Toccava a me prima No no tocca a me No tocca a me Tocca a me No a livello 8 Tocca a te E faccio anche quello dopo io No no quello dopo lo faccio io Oh Ecco Quante ce mi hai preso? Vediamo Un sacco Uh attenzione 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 Dove sono? Buono Sveglia Molly sei addormentato? Eh ma mi fai registrare la mattina Oh Marco Baleno Bello Vediamo proviamo Uh un nuovo attrezzo Oh Attenzione Allora facciamo le labbra così Bello blu Scrivi Molly Fai una M No glielo lo faccio solo così ai bordi Nooo Ecco qua Nooo Ah ma è tutto blu Che bello eh E poi è due sfumature di blu diverso Ma dov'è il nuovo attrezzo? Eccolo Attento Attento con la matita labbra Oh mamma Ma questo è difficile Allora matita labbra è difficile Matita labbra è difficile Eh È molto difficile Anche se è più difficile quella per gli occhi Stai tranquilla Guarda Guarda che roba Bello Bello ci piace Bravo Molly Ti potrei assumere come me Nooo Si Nooo Si No assolutamente no Bellissimo Nooo Basta Hai fatto due livelli Il livello buon Me l'hai passato Non è che io sono Eh Dai che ce la fai Non è come si dice No no Dorme poverina Dorme dai fammi giocare Fammi giocare Dai a me fammi giocare Ho chiuso Ragazzi L'ultima ruota del carro E' come è venuta L'ultima ruota del carro che mi dai il cellulare quando vuoi Oh no 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 Spiderman Spiderman Nananananana Ah questi secondo me Nananananana 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 Queste secondo me sono le labbra più carine Sii belle ci piace Uuuuh Uuuh 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 Attenzione potrebbe aver fatto le labbra più belle 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 Vai vai con Nooo No 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 Lì non ho fatto la su No Liner, te l'ha completato, un po' di lucido, le labbra della Marvel ragazzi, bellissime, livello 10 arrivo, tocca a me, si, 900 like, adesso io farò la differenza con un milione di like, allora, ultimo livello, ultimo livello, ma sono le mie labbra, non puoi fare le foto con le mie labbra, certo che posso, io posso tutto, attenzione, Reby, hai l'ultima possibilità, foto, belle, belle, save exit, vai, vediamo adesso cosa succede, ultimo livello, ci piace, dopo c'è una nuova, io vorrei anche una nuova di queste, nuova cornice, bang, bello, ci piace, ci piace, hai visto che sblocchiamo un pennellone dopo? No, non ho visto, comunque, guarda un po', queste erano le labbra di Hulk, le labbra di Hulk, le labbra di Hulk verdi, ah beh, è vero, vabbè, la Reby è più addormentata di me, dai, no, mi hai attaccato il sonno, questa mattina, si attacca al sonno, ma il sonno non si attacca, guarda, belle, le labbra bianche, lo so cosa faccio adesso, un fantasma? Uno scheletro secondo me, uno scheletro? Potrebbe essere uno scheletro, belle così comunque, no, grigie non mi piacciono molto in realtà, ah, scacchi, scacchi, ed ecco la bandiera scacchi, ha vinto l'Avdo 2, era la mia, la mia pista per le macchinine, faceva sempre così, vabbè, non ti interessa, no, guarda, bello, stupendo, no, però così ci sta, quanto ci vuole a fare delle labbra così? Eh, non lo so, ma penso un pochettino, eh, ci vuole un pochettino, vediamo, lucido, un po' di lucida labbra, ok, e abbiamo completato, belle anche queste, molto, molto belle, guardate, e voilà, ragazzi, speriamo che questo video di make up vi sia piaciuto, mille like, bang, speriamo che questo video di labbra vi sia piaciuto, se volete il continuo fatecelo sapere, e ci vediamo al prossimo nuovo fantastico video, ciao! Ciao!